Previsioni del tempo per giovedì 9 settembre su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Il sud-est italico continuerà ad essere interessato da correnti sud-occidentali pilotate dalla circolazione depressionaria presente sulle regioni settentrionali. Nuvolosità irregolare transiterà pertanto sulle nostre regioni, determinando annuvolamenti sui settori occidentali del Molise e qualche pioggia su Basilicata occidentale e Salento. Innotata nuovo peggioramento tra Molise ed Alta Puglia, temperature stabili o in lieve aumento, nuovo calo in serata tra Molise ed Alta Puglia, venti moderati, mari mossi, molto mossi a largo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. La giornata subirà gli effetti di una persistente circolazione occidentale e proporrà un'alternanza tra i spazi soleggiati e locali addensamenti. Nubi che a sprazzi potrebbero divenire minacciose e dar vita a qualche isolato acquazzone, temperature stabili o in lieve aumento, nuovo calo in serata tra Molise ed Alta Puglia, venti moderati, mari mossi, molto mossi a largo.